Chiara Ferragni rompe il silenzio sui social dopo la diffusione delle immagini di Fedez con la modella Garan Sautier, giocando su TikTok con i suoi milioni di follower. Con un selfie che la ritrae disgustata e con gli occhi al cielo, Chiara ha chiesto ai fan di scrivere una caption, i commenti che ne sono seguiti l'hanno fatta sorridere. Senza fare riferimenti diretti, Chiara sembra rispondere alla notizia del nuovo legame del suo ex marito Fedez dopo la pubblicazione del video del rapper Mano Nella Mano con Garan Sautier. Chiara aveva già postato foto insieme ai figli e al cane paloma scattate a Madrid. Ora su TikTok chiede ai suoi follower di trovare una caption per la sua espressione disgustata. Tra i commenti più apprezzati da lei c'è Finalmente potrà uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa. Un chiaro riferimento ai tempi in cui doveva scartare i tacchi per non risultare troppo alta rispetto al marito. I fan hanno continuato a divertirsi con altre didascalie spiritose, tra cui il mio ex ha un'altra bambina da portare all'asilo. E ancora, quando mio marito cerca di farmi ingelosire con la prima scappata di casa che trova. Commenti che hanno ricevuto il like di Chiara. Intanto la relazione tra Fedez e Garan Sautier continua a far parlare. Paparazzati insieme a Monaco durante il Gran Premio, i due hanno trascorso del tempo su uno yacht, come documentato dallo stesso rapper nelle sue storie, e sono stati visti passeggiare Mano Nella Mano. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS